In una sala gremita di studenti si è svolta la quattordicesima edizione del premio letterario internazionale L'Aquila B per l'Adomia Bonanni. Con la misura dello zero, Bruno Galluccio è risultato il vincitore della sezione A, poesia inedita. La carriera di Galluccio nasce da un curioso binomio, laurea in fisica e amore per la poesia. Il suo primo libro di poesia verticali è uscito nel 2009. Una raccolta che si sviluppa intorno a due fuochi, due diversi tipi di smarrimento che in realtà Galluccio riesce miracolosamente a incrociare. Da un lato questo smarrimento segue percorsi di tematiche esistenziali più tradizionali al mondo della poesia, seppure presquarci deformanti o esplicitamente onirici. Dall'altro lo stupore è legato a tematiche scientifiche, alla matematica, alla fisica, alla cosmologia. Il linguaggio scientifico ha talvolta funzione propria e talvolta valore metaforico. Questo libro tratta argomenti della fisica più recente, fisica quantistica e anche cosmologia. Però direi più in generale un libro sul processo di acquisizione della conoscenza scientifica, che è un'attività umana e come tale è giusto che la poesia si focalizzi su di essa. Quindi dagli stadi più iniziali, quelli dello stupore, quelli degli interrogativi sul mondo che ci circonda, poi il faticoso processo della ricerca scientifica, che però poi soprattutto nella fisica moderna porta risultati anche distanti da quello che è il senso comune.